Ciao a tutti! Oggi prepareremo il disinfettante per le mani. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono alcol per alimenti, acqua ossigenata, glicerina vegetale, acqua distillata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'alcol per alimenti. E l'acqua ossigenata ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 2. Aggiungiamo la glicerina vegetale ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 2. Aggiungiamo l'acqua distillata e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 1. Il nostro disinfettante è pronto. La consistenza come vedete è liquida, quindi vi consigliamo di riporlo in bottiglie di plastico di vetro con tappo dosatore oppure spray. disinfettante per le mani grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!